E soprattutto la cosa più importante è variare, perché per esempio quando doppio i film della strip, che è l'attrice straordinaria, lei ogni volta crea un personaggio diverso e quindi bisogna seguirla anche nelle tonalità. Il penultimo film che ho doppiato è stato Florence, dove faceva una cantante stonata, faceva gorgheggi, ho dovuto anche fare dei gorgheggi perché erano attaccate le battute con una voce curiosa, strana. Che bella melodia! L'ha scritta lei? Sì. Lei mi ispira, io dovrei scrivere un testo per lei. Meravigliosa! Mangelo, un tortoise per lei. Io mi, Wouldenty. Sì. Grazie.